Buon appetito, fa venire veramente l'acquolina in bocca questo servizio, vedere questi formaggi. Allora Daniela Fenoglio, lì siamo nel Cuneese, ma proprio dedicato alle aziende che si occupano di alimentazione, fanno dell'eccellenza, voi avete dedicato questa iniziativa Maestri del Gusto, di che si tratta? Il progetto Maestri del Gusto di Torino e Provincia è un progetto che è nato nel 2002, è stato da subito realizzato dalla Camera di Commercio di Torino in collaborazione con il proprio laboratorio chimico e con il sistema Slow Food. Ed è una cosa a candidatura diretta, cioè sono le aziende che si devono candidare? Esattamente, se fra gli ascoltatori c'è un imprenditore, un'imprenditrice agricola, commerciale o artigiana che fa della qualità e del saper fare e dell'amore per la tradizione e nello stesso tempo voglia di innovazione, ecco, questo è il candidato ideale per il nostro progetto, è sufficiente andare sul sito del progetto, scaricare la domanda, entro il 20 giugno. E se uno lo fa si sottopone a una serie di verifiche? Sì, perché come abbiamo detto ci sono tre anime del progetto, la Camera di Commercio di Torino va a verificare tutta una serie di aspetti amministrativi, la regolarità del diritto annuale, tutta una serie di verifiche appunto amministrative, il laboratorio chimico va a fare delle visite in azienda, per ogni azienda candidata, ad ogni edizione il laboratorio chimico va a fare proprio un audit, un'attenta verifica di quelle che sono la corretta applicazione della normativa igienico-sanitaria che è molto complessa e poi Slow Food invece dice la sua sul gusto. Sulla qualità finale insomma. Slow Food va a visitare l'azienda in incognito. E se si supera diciamo tutta questa serie di verifiche si finisce qua, in questo libretto che è un po' il vostro libro degli onori insomma. Esatto, quella è la brochure che noi distribuiamo a ogni iniziativa, che realizziamo poi con i maestri del gusto, la consegniamo anche alle aziende assieme al diploma e assieme a tutto il materiale promozionale che le aziende con orgoglio esibiscono all'interno dei propri punti vendita. Qui dentro ci sono 220 aziende, segnalate appunto come di eccellenza, le aziende si sottopongono a tutto questo, finiscono in questo libricino ma soprattutto entrano in una rete. Esatto, perché nei due anni in cui hanno il riconoscimento di maestri del gusto, le aziende poi vengono coinvolte in una serie di eventi, alcuni minori ma alcuni molto importanti, tipo le ATP, l'Eurovision, il Salone del Gusto, Terra Madre e il Salone del Gusto, le fiere internazionali, e anche a tutta una serie di iniziative formative e promozionali, perché oltre a questa brochure abbiamo il sito dove ogni azienda viene raccontata con la sua scheda e quindi lì si possono trovare veramente anche i riferimenti e chiunque, adesso vedo che stanno scorrendo le immagini dei nostri maestri del gusto, si può andare a scoprire la storia di ogni azienda. Quindi insomma si accede a una vetrina importante e a una rete anche importante. Esatto. Va bene, grazie a Daniela Fenoglio della Camera di Commercio di Torino, responsabile appunto di questo progetto Maestri del Gusto. Grazie. Grazie a voi e buona scoperta dell'enogastronomia torinese. Grazie. Grazie.